Ciao ragazzi, come state? Spero bene, mi dicono che devo essere sempre più veloce, più veloce, più veloce e tu cosa ne pensi? Dammi una risposta perché cerco di essere sempre sintetico, breve, ma il più delle volte credo di trascurare moltissime cose, anche se questi video sono nati solo per la visualizzazione del programma di oggi comunque prova a essere concreto, ancora oggi quindi ti presento il programma Warm Up, Forza e Workout quindi la prima cosa che vediamo adesso è il riscaldamento, mi raccomando fallo sempre ma prima di andare alla forza ascolta quello che ha da dire Super Mario, noi ci vediamo lì, ciao! Ed eccoci qui alla forza ragazzi, hai ascoltato quello che ha detto Super Mario? Oggi nella forza abbiamo il deadlift, quindi lo stacco da terra, attenzione a questo esercizio perché è molto insidioso si sbaglia veramente tanto e inevitabilmente finisce il carico sulla schiena anziché sulle gambe e i gluti quindi se hai qualsiasi dubbio o vuoi farmi una semplice domanda mi scrivi sotto nelle descrizioni quindi ci vediamo al workout, ciao! Ecco qui il workout ragazzi, l'allenamento di oggi finale è fatto su 5 giri 4 sono gli esercizi, i primi 3 sono con i manubri e l'ultimo sono i dips agli anelli un esercizio non facilissimo, quindi se hai qualsiasi domanda su qualsiasi tipologia di esercizi ti interessa impararli, iscrivi sotto e ricordati quello che ha detto Super Mario quindi mi raccomando iscriviti al canale, lascia un mi piace e noi ci vediamo domani allenati bene, ciao!